Voto unanime del Consiglio Comunale di Villadosso sulla richiesta di cittadinanza onoraria a Roberto Morgantini, un villese che da decenni lavora e vive a Bologna. Il Consiglio ha di fatto accolto la proposta di un gruppo di cittadini che hanno presentato al Sindaco la richiesta di conferire a Morgantini la cittadinanza onoraria. Il Sindaco Bruno Toscani, evidenziando alcuni commenti negativi apparsi sui social, si è detto orgoglioso che Roberto sia nato qui. Non c'è alcuna ipocrisia nella nostra scelta. È un atto importante verso una persona che ha portato in giro il nome della nostra città. L'attacco arriva da ambienti del centro-sinistra perché qualcuno vorrebbe che Morgantini, uomo di sinistra, rifiutasse la cittadinanza da parte di un'amministrazione di centro-destra. Morgantini, che vive a Bologna da anni dove è stato lungo responsabile dell'ufficio emigrazione della CGL e dove da sempre è impegnato nella vita sociale, riceverà la cittadinanza nel corso di un prossimo Consiglio Comunale. A Bologna, la sua ultima iniziativa sono le cucine popolari, mense create dal nulla per dar da mangiare e assistenza alle persone bisognose. È una mensa popolare, accessibile a tutti, dice Roberto. Non risponde però solo ad un bisogno alimentare, ma un bisogno relazionare che è ancora più forte, più sentito e che non ha risposte. Un progetto che vuole rivolgersi a quella fascia grigia del Cassi Integrato, del pensionato con reddito basso, delle famiglie numerose monoreddito, di chi vive in strada, dei malati psichiatrici, che hanno delle pensioni bassissime e degli invalidi.